buongiorno a tutti quanti e bentrovati qui su short gaming qui è il vostro bio che vi dà oltre che un'ottima giornata vi annuncia anche quello che avverrà durante la live di 2000 iscritti come avete capito dalla copertina ci sono un po di cosettine 1 la live piccola premessa live durerà 12 ore x cioè come quella di 1500 ovvero deciderete voi quanto farà durare dopo 12 ore durante queste questa live io darò dei regali per voi per ringraziarvi di avermi fatto arrivare a 2000 iscritti e sono il primo non so di cui non sono in quest'ordine ve li dico un po a caso sono una chiave di prena nobata ground due chiavi di the walking dead e telltale game story spero del pronunciato giusto prima season e da 5 a da 5 chiavi in su da 5 chiavi in su di steam a caso durante questa live di 12 ore barra x ci saranno delle cose oltre a questi regali qui intanto come nel 1500 iscritti se ci sarà se ci sarà da 1 in su fino a un massimo di 3 si i tre abbonati in più al canale quindi gente che si abbona nel segmento al canale verranno date ogni abbonato in più verranno date due chiavi di steam in più oltre a quelle solite che io dopo oltre alle cinque che io darò fino a un massimo di tre abbonati in più al canale oltre a questo durante questa live se ci saranno delle donazioni da ogni cinque euro di donazione ricevute da parte vostra la live durerà un'ora in più ok quindi facendo un rapido calcolo per far arrivare a 24 ore che il massimo che farò arrivare io appunto che potrò arrivare per far arrivare a 24 ore scusate a 24 ore che ovviamente non saranno 24 continuative sapete benissimo come funziona youtube arriverò 20 ore mi fermerò per mezz'ora e poi riprenderò per altre per altre quattro ore e youtube oltre le 21 ore e 50 minuti non registra preferisco evitare che non registri il live comunque non arriverò oltre 24 ogni 5 euro di donazione sul canale la live verrà aumentata di un'ora quindi per arrivare a 12 ore in più fatti voi i conti non c'ho voglia di stare a farli io e se per caso qualcuno di voi volesse acquistare le magliette quelle bianche semplici quella che quella che io porto la maggior parte del tempo in live con le bianche semplici lo dice e fa una donazione per il totale del costo della maglia che adesso ve lo devo dire un secondo solo che vado a recuperare la mail un attimo solo datemi un secondo eccolo qua datemi un secondo ecco allora allora il costo della maglia della maglia bianca hanno con il 2018 hanno aumentato i prezzi prima costavano prima costavano diciamo un tot adesso costano un altro fatto la maglietta bianca semplice con la colloca sotto gaming scritto dietro sotto gaming e i loghi di youtube twitch e facebook con il vostro nome cioè chi l'ordina deve scrivere il nome che vuole scritto dietro costa 15 euro la maglietta colorata invece ne costa 20 sono aumentati i prezzi purtroppo mi dispiace sto cercando di farli di nuovo riabbassare di farmi di riabbassare a prezzi un po più onesti però video questo se volete acquistare le magliette durante la live potete donare con quello scopo donate 15 euro per le magliette bianche e 20 euro per quelle colorate io ho la mail sotto mano e mi hanno detto che il costo è quello per la maglietta nera la maglietta nera ha lo stesso logo di shot gaming e la scritta di shot gaming indietro con le varie icone e il vostro nome questo è quanto ragazzi quindi ricapitoliamo una chiave di play on a battleground due chiavi di the walking dead telltale stories game quello che è 5 chiavi x 5 chiavi barra x di steam a caso ogni abbonati più al canale ognuno di voi che si abbona di più al canale si abbona per un mese al canale fino a un massimo di 3 verranno date altre due chiavi in più di steam rispetto alle 5 barra x che do e se per caso e ogni 5 euro di donazioni sul canale verrà aumentata la live di un'ora in più rispetto alle 12 e se per caso qualcuno di voi volesse comprare una maglietta shot gaming bianca o nera con logo e scritta e icone col vostro nome ovviamente dietro basta donare da qui 15 euro per la maglietta bianca 20 euro per la maglietta nera e con la scritta la donazione con la scritta donazione per la maglia con il vostro nome per il nome che volete scritto dietro questo è tutto ragazzi grazie mille io vi auguro una buona giornata ci vediamo in live questo pomeriggio ciao ciao